Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo al bilancio comunale 2016. Parere negativo è stato esitato dalla terza commissione consigliare del comune preseduta dal consigliere di Forza Italia, Salvatore Scerra. Lo strumento finanziario è basilare per gli equilibri dell'ente comunale. Questa sera, riunione della Sise Civica, se non passa si rischia il commissariamento all'orizzonte e dunque si intravede un vero e proprio terremoto politico. Parere negativo sul bilancio comunale 2016 lo ha espresso la terza commissione consigliare del comune preseduta dal consigliere di Forza Italia, Salvatore Scerra. Lo strumento finanziario è fondamentale per gli equilibri dell'ente comunale. Se questa sera non passa nella seduta della Sise Civica, si rischia il commissariamento. Parabola significa che si creerebbe un vero e proprio tsunami politico. La bocciatura del conto consuntivo 2016, infatti, decrederà il terremoto all'interno del consiglio comunale. Il no al bilancio è arrivato, oltre che dal presidente Scerra, anche dai consiglieri Romina Morselli, Enzo Cidignotta e Simone Morgana. Avrei voluto votare sì, avrei voluto esprimere un parere favorevole e per fare questo abbiamo cercato di mettere l'amministrazione nella condizione di poterci mettere nella serenità di dare un parere favorevole. Così non è stato. In questi mesi abbiamo lanciato diversi segnali in questo senso. Quindi continuano ancora oggi a persistere diverse ragioni di censura. Quali sono le censure che noi muoviamo a questo schema di bilancio? Troppe divergenze. Troppe divergenze tra il debito dichiarato e il credito delle partecipate. Troppe incertezze su quelli che sono i reali costi del servizio, ad esempio di raccolta. Quindi troppe incertezze sui debiti che noi abbiamo nei confronti delle partecipate sul servizio di raccolta rifiuti. Troppe incertezze e moltissime incongruità su quelli che sono i debiti che il Comune ha nei confronti del lato rifiuti, su quelli che il Comune ha nei confronti della partecipata GELAS. Per cui abbiamo ritenuto che non sia proprio affatto possibile poter esprimere un parere positivo a questo schema di bilancio. Questo è un bilancio senza programmazione, che non guarda l'agricoltura, che danneggia l'agricoltura, che sceglie di destinare briciole all'agricoltura per sparpagliare quelli che sono dei fondi in giro in maniera frammentata. Questo bilancio non costruisce, questo bilancio rinuncia a programmare un futuro della città. Diciamolo chiaramente. Questa è la peggiore continuità che ci potevamo aspettare. Non è che siamo contrari in modo preconcetto. Noi diamo dei suggerimenti alla Giunta, teniamo conto dei debiti delle società partecipate, abbiamo sottolineato l'importo non congruo relativo alla tariffa dei rifiuti. Se la Giunta Municipale recepisce questi due suggerimenti e fa chiarezza sui debiti e sulle tariffe tari, siamo pronti a votare sì. L'unica voce fuori dal coro è quella del consigliere del Polo Civico, Sandra Bennici. Mi sono astenuta perché non contivido la posizione del resto della Commissione, anche perché loro hanno motivato il no dicendo che ci sono dei debiti che non sono stati inseriti, quasi paventando il falso in bilancio. Se la pensano così si rivolgono al commissario che è stato nominato e quindi denunci in oppronto un falso in bilancio. Io non voto sì perché non voglio andare a casa, che sia chiaro. Non sono ancorata alla poltrona. Però secondo me ci vuole più coraggio a governare che a non andare via. Come dicevamo la bocciatura del conto consuntivo 2016 potrebbe decretare un vero e proprio terremoto all'interno del consiglio comunale. Sentiamo il presidente della Commissione consigliere bilancio, Salvatore Scerra. Non approvando il bilancio il consiglio comunale andrebbe a casa e la regione nomina un commissario che per i prossimi anni sarà assieme al sindaco a guidare questa città. È un paradosso ma è così. Voi avete analizzato nel dettaglio tutti i documenti in merito al bilancio. Cosa è che non va? Noi come Commissione lo ribadiamo da molto tempo. Noi siamo convinti che nel corso degli anni qualcosa di anomalo c'è stato. Quest'anno abbiamo avuto il coraggio, anche se dovrebbe essere una normalità, quello di dichiarare tutto quello che abbiamo riscontrato in queste anomalie. Quindi i debiti delle partecipate. Abbiamo fatto diversi incontri con le società partecipate, tra cui la più importante che è quella dell'architetto Robilatte che dirige la GELAS, dove ha dichiarato che c'è un debito che ammonta 4 milioni di euro. Abbiamo parlato con il commissario liquidatore del lato che ci conferma i debiti di 13 milioni, mentre la parte politica dell'amministrazione non ha accettato queste dichiarazioni dei commissari che comunque ci hanno ribadito questi debiti. Ma noi rimarchiamo su un punto che a mio parere e a parere della Commissione è il punto più importante, che è quello relativo al capitolo dei rifiuti. Sappiamo benissimo che ammonta un debito di circa 2 milioni per quanto riguarda la fatturazione della tecla e noi come Commissione abbiamo esitato sia queste fatture ma soprattutto ci siamo soffermati sull'Atari perché quest'anno in bilancio l'amministrazione ha aumentato la tariffa. Una tariffa che non può essere aumentata perché la legge ci impone di cambiare l'eventamento in Consiglio Comunale entro il 30 aprile, bene questo non è stato fatto e l'amministrazione ha aggiunto che nel bilancio 2016-2017-2018 ci sarà un aumento da 7 a 11 milioni. Questo poi è stato rettificato da sempre dall'attuale amministrazione con una diminuzione di un milione e mezzo ma resta il fatto che ci sono sempre due milioni e mezzo in più nel Tari. Voi avete questa sera il Consiglio Comunale che si occupa proprio di questa vicenda, dunque ricordiamo, ribadiamo, se il bilancio non dovesse essere approvato si va a casa. Sicuramente, è un atto di responsabilità, io onestamente come partito politico soprattutto perché il lavoro da Presidente è quello di coadiuvare una Commissione ma come espressione politica di Forza Italia io voterò no al bilancio consapevole del fatto che se non verrà approvato andremo a casa. La CGL ha ottenuto l'incontro con la Giunta Comunale di Gela per affrontare il delicato tema del servizio trasporto disabili in città. Il sindacato ha proposto alla Giunta di ampliare il servizio a tutti i disabili che ad oggi non vengono assistiti. La città di Gela, dice il segretario generale Ignazio Giudice, deve aumentare il livello e la qualità dell'assistenza, il Comune deve vigilare sui diritti dei lavoratori e deve puntare a bandire una gara d'appalto specifica della durata di un anno così da raggiungere entrambi gli obiettivi proposti dalla CGL. È del tutto evidente che si tratta di una volontà politica ed il punto di svolta è destinare circa 400 mila euro così da portare serenità in un settore esposto alla precarietà tanto nell'assistenza, tanto nei diritti dei lavoratori. La CGL in rappresentanza dei 11 lavoratori andrà avanti e promuoverà incontri anche con la Presidenza del Consiglio Comunale e dei consiglieri affinché il bilancio del Comune di Gela possa avere rispetto concreto per le fasce deboli della società così da non parlare inutilmente di solidarietà termine quest'ultimo fin troppo abusato. Non ci sono aule e noi facciamo lezione all'aperto. Alunni e insegnanti del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela protestano così contro la mancanza di classi che si registra nell'istituto di Via Pitagora. Il dirigente scolastico Angela Tuccio denuncia il rimpallo di responsabilità tra i vari uffici della provincia e chi ne piange le conseguenze sono gli studenti. È chiaro che io voglio che i nostri alunni abbiano aule, dotazioni, un ultimediale e tutto ma quando a fronte di numerose richieste la provincia si fa sorda e non sembrano esserci altre soluzioni l'unica soluzione possibile sembra quella di fare lezioni all'esterno. Quindi se ad un lato la scuola è una scuola attiva, una scuola aperta al territorio, una scuola propositiva, una scuola di eccellenza viene pertanto penalizzata perché questa scuola è una scuola che fa numeri e allora noi numeri non li dobbiamo fare, noi dobbiamo privare i ragazzi del loro diritto allo studio, dobbiamo fare delle gradatorie, chi può andare al liceo scientifico, al liceo linguistico e chi non può. Queste sono le decisioni che la provincia prenderà. La nostra scuola ha lanciato una petizione che è visibile sul sito, sull'ombeggio della nostra scuola www.liceovittorini.gov.it una petizione visibile che si propone comunque l'ottenimento delle aule necessarie che spero la cittadinanza tutta è ferma. Una messa in suffraggio in ricordo del 54esimo anniversario della morte di Enrico Mattei si trarà giovedì 27 ottobre alle 10.30 nella chiesa San Giovanni Evangelista di Macchitella. Subito dopo verrà deposta una corona di alloro ai piedi del busto di Mattei che si trova in Viale Corte Maggiore. L'iniziativa è della associazione pionieri e veterani Eni di Gela presieduta da Giuseppe Lisciandra. Ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno. Tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni possono regarsi all'ospedale di Gela il martedì giovedì e verdi dalle 15.30 alle 17.30 per sottoporsi alla mammografia gratuita. È stato presentato oggi nella stanza del sindaco di Gela il brand del Museo del Mare. Lo studio grafico è stato condotto da una giovane gelese Concetta Faraci neolaureata all'Accademia di Belle Arti di Catania. Sentiamo. Un luogo che guarda già come far diventare un centro importante a livello internazionale è un luogo importante come il museo della nave destinato a custodire dei reperti importanti delle navi che hanno una valenza storica e scientifica notevole. Ma accanto a quello che può essere l'importanza dei reperti che deve scustodire ci è stato fatto invece un lavoro a contorno per far conoscere questo museo per rendere questo museo un museo vivo, un museo degno di essere vissuto a 360 gradi dove sarà possibile avere uno scampio continuo tra il nostro mondo e il mondo passato che è destinato ad essere messo dentro queste mure. Un brand, devo dire, di alta qualità che ha ripercorso un po' la storia dell'individuazione del reperto archeologico in mare, alla descrizione delle varie fasi del ritrovamento sino all'individuazione del luogo dove sorgerà il museo, allo studio del progetto e delle sue linee importanti e da questo ne ha tratto un logo che a mio parere è bellissimo. Per me è stato un piacere realizzare tutta la visual del futuro museo della navigazione di Gela, credo fortemente nella mia città e quindi per me è stato veramente un onore poter nel mio piccolo realizzare e dedicare la mia tesi progettuale alla mia città. Come ho detto prima, ho realizzato la visual del museo della navigazione e quindi la veste grafica del futuro museo e ripeto e sottolineo, credo fortemente nel turismo che questo museo potrà portare nella nostra città. La forma ettagonale è stata la visione di tutta questa visual, presa appunto dalla struttura del futuro museo della navigazione e realizzato dal rendering che io ho visto realizzato dall'architetto Ettore Di Mauro. Da qui nasce il simbolo distintivo dell'intera visual che poi è stato declinato sui vari artefatti grafici. Per un problema tecnico non di peso dalla nostra volontà, ieri sera la trasmissione 10 domande 10 non è andata in onda. Sarà proposta questa sera alle 21. Nostro ospite è il direttore del gruppo Geloi Triskelion, Giuseppe Laspina. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Il centro Lilium Benessere premia l'amicizia e presenta le nuove promozioni autunnali con gli appuntamenti porte aperte. L'esordio è stato affidato il 20 ottobre scorso alla presentazione di quattro diversi e rivoluzionari metodi di epilazione con le nuove promozioni. L'azienda locale leader del settore propone i metodi pasta di zucchero, luce pulsata, cera al nim e laser a diodo. Luce pulsata e laser a diodo rappresentano la nuova frontiera della epilazione progressivamente permanente. In particolare la luce pulsata è un sistema in uso regolare da Lilium Benessere da oltre 11 anni. Poi nel 2015 è arrivato anche il nuovo sistema ancora più efficace e veloce. La pasta di zucchero è un trattamento completamente naturale, meno dolorosa della cera tradizionale e che rispetta la temperatura corporea. La cera al nim infine è un olio ottenuto da una pianta che ha proprietà antisettiche e antifungine. Sbocciano così dal Lilium Benessere le nuove promozioni autunnali che premiano l'amicizia. Infatti chi acquisterà almeno 5 sedute di epilazione o pacchetti godrà di sconti che vanno dal 10 al 50%. Chi parteciperà inoltre all'iniziativa concorrerà all'estrazione finale di ulteriori premi in palio. Le promozioni sono valide fino al 30 novembre prossimo. I prossimi appuntamenti porte aperte da Lilium Benessere per le prove gratuite sono il 28 ottobre e il 24 novembre. Prenota anche tu il tuo appuntamento con il benessere e la bellezza. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiane riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in tetrapack vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e nonna, buste, sacchetti zucchero e farina, scioper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Per un metodo condiviso è l'obiettivo che la protezione civile da anni promuove a carattere nazionale, una formazione che in stretta collaborazione con gli enti territoriali ha promosso la crescita di una cultura di protezione civile condivisa e rispondente alle esigenze sia degli operatori che dell'intera collettività capace di promuovere e diffondere un unico linguaggio di protezione civile con procedure condivise attuabili su tutto il territorio, indipendentemente dalle differenti organizzazioni dei sistemi locali di protezione civile. Con questo proposito si terrà venerdì 28 ottobre alle 17 presso la sala congressi della pubblica assistenza Procivis di Gela in via Ossidiana 23 un incontro sul tema Conosci, rispetta e vivi il tuo territorio. Il rischio perché relazionerà il geologo Salvatore Saia, funzionario e responsabile dell'ufficio provinciale di protezione civile della Libro Consorzio Comunale di Caltanissetta. E adesso parliamo dell'iniziativa Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole. Terza edizione di Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole, si è svolta nell'istituto comprensivo Gianni Verga di Gela, diretto da Via Naldisio. L'iniziativa, promossa dal Centro per il Libro e la lettura e dalla Direzione Generale per lo studente, è finalizzata a portare la lettura nelle scuole in forma inedite, diffondere il piacere della lettura tra i ragazzi e sottolinearne l'utilità per la crescita sociale e personale, grazie all'esperienza diretta con i testi e attraverso l'ascolto e il confronto con insegnanti, compagni e autori. La motivazione per cui in realtà continuiamo a promuovere a scuola la lettura del testo e del libro e creare momenti di incontro con l'autore è proprio per dare quel valore aggiunto alla lettura che nelle scuole chiaramente è una pratica fondamentale del fare didattica, ma sicuramente deve essere corredato di tutti quelli che sono i momenti di incontro fra il libro, i ragazzi, gli alunni, i lettori in erba che cerchiamo di far maturare come lettori consapevoli e sicuramente gli autori. Ospite della giornata è stata la scrittrice Lina Maria Ugolini, poetessa e cantafiabe. Questo libro tengo particolarmente, è un libro che tra poco andrà anche in ristampa, perché è legato anche a un progetto di adozione a distanza. Io ho rinunciato ai miei diritti d'autore proprio per essere coerente con il tema della scrittura e qual è questo tema. Questo libro affronta il problema del lavoro minorile, infatti il protagonista, Jamil, è un bambino che lavora come schiavo nei campi di cotone in Egitto. E la scrittura in modo sia molto vero, a volte anche crudo, ma nello stesso tempo anche fantastico, quindi perché abbiamo anche questo colore indago che permette a questo bambino di superare i momenti dolorosi della propria vita rifugiandosi nel mondo delle fiabe. E' un modo per proprio raccontare in maniera vera e lieve questa grande piaga che ancora oggi ovviamente è legata a molti bambini del pianeta, proprio che sono costretti a lavorare come degli adulti. A partecipare all'autore iniziativa Lina Orlando, esperta esterna. Non molti sono abituati a leggere e conoscere l'autore del libro che ci viene proposto magari ci aiuta a leggere il libro con una diversa chiave. Libriamoci è una bella esperienza perché ci permette di unire il piacere dello studio a quello della lettura, gli argomenti che trattiamo in classe con gli insegnanti a ciò che ci piace fare nel nostro tempo libero e quindi studiare divertendoci, ampliare la nostra cultura ed immergerci insieme a tutto l'istituto nel mare della lettura. L'iniziativa Libriamo ci ha fatto tappa anche nella scuola Salvatore Quasimodo presente lo scrittore Renato Collodoro. Si chiama Tanto Manitella, nuova fatica letteraria di Renato Collodoro. L'opera mette assieme storie semplici che cercano di raccontare il buono e il bello che ci può essere nella vita ordinaria, quella di tutti i giorni, quella del lavoro, della famiglia, degli amici, di una vacanza, di una passeggiata, quella di incontri più o meno casuali in luoghi più o meno usuali. Il volume è stato presentato ieri nella scuola Quasimodo di Gela. Nonostante i ragazzi siano ormai disorientati, attratti da tante cose che li allontanano prima di tutto da loro stessi, non tanto dalla scuola o dagli insegnamenti, ma il problema grosso è che li allontana da loro stessi. Purtroppo i modelli sono quelli che sono, bisogna cercare anche un po' da adulti e prendersi la responsabilità di forzare un po' la mano, cioè di non aver paura di osare. Quindi tante volte si asseconda l'aspettativa del ragazzo o della famiglia, per quanto so, la difficoltà in cui si incorre, però bisogna usare. Non c'è altra alternativa, magari andando incontro a dispiaceri, però è una cosa di cui bisogna avere cura e premura. A me interessa che qualcuno si senta coinvolto in questo progetto, mettendoci del proprio impegno, impegno, una propria iniziativa, un'attenzione, che purtroppo per la distrazione di cui accennavamo prima viene a mancare e di conseguenza non mi basta ricevere dei complimenti di cui non me ne faccio niente, apprezzamenti che lasciano il tempo che trovano. La manifestazione è stata presentata dal giornalista Domenico Russello, il dirigente scolastico Maurizio Tedesco. Altri giorni avremo anche la presenza a scuola di attori che appunto cercheranno anche di animare la lettura di alcuni testi classici. Però ci tengo a sottolineare il fatto che in realtà noi a scuola promuoviamo la lettura sempre, perché per esempio una delle iniziative che da qualche anno ormai quasi fa è quella di leggere il libro del mese, quindi è una cosa che normalmente noi facciamo. Però è importante, così come sottolineava l'autore del libro, educare i ragazzi a sapere osservare, a sapere criticare, a sapere ascoltare, perché probabilmente questo è il primo passo per poter costruire qualcosa di nuovo, per poter essere cittadini consapevoli, ovviamente quello in cui tutti noi speriamo. Però per poter raggiungere questo obiettivo è importante che i ragazzi vengano educati all'osservazione, alla critica e quindi la lettura certamente è uno strumento importante perché i tempi della lettura sono i tempi della riflessione, sono i tempi della consapevolezza. Dal 28 al 30 ottobre già accoglierà gli atleti della Nazionale Italiana Special Olympics che nel marzo del 2017 in Austria parteciperà ai mondiali invernali nella disciplina della corsa con le racchette da neve. L'iniziativa giorese è promossa dalla associazione Orizzonte di Natale e Salucci. Gli allenamenti si svolgeranno nella spiaggia di Gela ed i ragazzi della Nazionale avranno a disposizione le strutture del Velo Club per momenti di relax, gioco, incontri tecnici e momenti di socializzazione grazie alla disponibilità del presidente Luigi Nastasi. La pagina dello spettacolo, appuntamento col cinema, l'antitoto di Gela e in proiezione il film Go With Me, sono due gli orari, ve li ricordiamo, 19.30 e 21.30. Ed è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale all'antitoto di Gela. Il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre. Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 338-7143-293-330-225-442 o 093-822-2707. L'abbonamento intero costa 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. È una nuova stagione teatrale anche all'Eschilo. Dall'8 novembre in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione. Per informazioni recarsi in teatro ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Ci sono anche dei numeri telefonici 0933-91-1892 e 345-5880-580. Ricordiamo che il prezzo dell'abbonamento è di 90 euro. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito.